Voce delle Chiese oggi torna a parlare di libri e lo fa questa volta con un libro davvero appena 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 uscito, proprio freschissimo di stampa, il libro Le mie Afriche, l'autrice è Laura Nisbet, con cui abbiamo avuto già più di un'occasione di dialogo, di incontro, perché Laura ha scritto altri libri dedicati a vari paesi dell'Africa. Intanto buongiorno Laura, benvenuta, bentornata potremmo dire. Grazie mille. Laura ha dedicato la sua vita a partecipare a missioni in Africa e a progetti in Africa insieme, insomma adesso il libro è pensato e tu fai parte della SEVA, della Comunità delle Chiese in Missione, allora invece era la Società Missionaria Evangelica di Parigi, quella con cui tu hai iniziato a fare queste esperienze, però poi tutto confluito diciamo sotto il grande cappello appunto della SEVA, della Comunità di Chiesa in Missione, di cui la Chiesa Valdesa fa parte ed è parte portante ecco di questa realtà che è presente in vari continenti e che sempre di più promuove lo scambio reciproco, la conoscenza reciproca, non più adesso, non più solo in un'ottica di un andare aiutare verso chi ha bisogno, quindi magari verso i paesi africani, ma proprio uno scambio di esperienze di reciproca crescita. In questo libro, Laura, le mie Afriche, fai un po' il riassunto della tua vita e della tua presenza in tre stati particolari dell'Africa, quali? Il Gabon è stato il primo, Zambia e l'Esoto, nel sud del continente, dunque molto diversi fra di loro. Io devo dire che lo spunto di questo libro viene dal fatto che al mio ritorno da questi trent'anni in Africa ho ritrovato a casa mia tutte le lettere che scrivevo ai miei genitori a partire dall'inizio, dagli anni sessanta, sessantadue e dunque ho ripreso la lettura con grande interesse perché non ricordavo più tutti i dettagli delle prime esperienze ed è stato interessante e ho voluto provare a riassumere un po'. Poi sono stata molto stimolata sia dai membri della mia famiglia che dai membri del gruppo Seva di Torre Pellice, ma dai dai scrivi, ma io non avevo nessuna intenzione o chissà quale idea di fare un libro. Per finire ho ceduto alle insistenze ma sono stata molto aiutata e dunque sono contenta perché è un po' un riassunto frettoloso, certo, perché trent'anni in quante, un'ottantina di pagine, tante fotografie anche, tante immagini. Però sì, qualche fotografia che ho salvato, sì sì, e sono contenta, sono contenta, spero che chi lo legga, che io possa trasmettere la mia gioia di questa vita di trent'anni e non solo, ma insomma in Africa, perché per me è stato un privilegio. Ecco, qualche volta mi stupisco, dico ma chissà come mai. È stata un'esperienza, la rifarei tutta, anche con i momenti più difficili. Quanti ne avevi quando sei partita? 22. Mamma mia, è giovanissima. È stata dura, certo abbandonare il terreno conosciuto, la famiglia, gli amici. Ma è stato miracoloso perché io ho trovato tantissimi amici, ho trovato anche la famiglia, diciamo, tutto. In tutti questi paesi? Dappertutto, sempre, sempre. E hai lavorato in ambiti diversissimi? Sempre, sempre l'educazione. Nella parte dell'educazione? Sempre l'educazione particolarmente. Quindi nelle scuole? Nelle scuole medio-liceali e poi anche però ho fatto moltissimo nel campo del, diciamo così, evangelizzazione per le scuole domenicali e formazioni dei monitori. In particolare in Gabon e in Zambia. Dove erano già presenti quando si è arrivata delle chiese evangeliche? Sì, perché sai, in Africa più o meno gli anni 60 erano quelli in cui gli stati volevano avere, togliersi dalla colonizzazione e diventare autonomi. Così pure le chiese. Per cui, a dire la verità, io ho vissuto un po' tra l'uno e l'altro. Sono partita come missionaria e c'erano ancora i missionari, era un sistema un po' diverso. E poi improvvisamente, abbastanza improvvisamente, diciamo dal 71, non c'era più questa società ma c'era la Seva, la Seva, dunque la comunità di chiesa. Questo significa che per quel che mi concerne, nell'ambito in cui io lavoravo educativo, ero sotto il controllo degli africani. Sì? E che è molto bello. Qualche volte è stato anche bellissimo, altre volte è stato difficilissimo. Ma ecco, come vedevano, no, diciamo mettendola in parole semplici, però come vedevano la persona bianca che andava a insegnare in Africa? Venivi sempre ben accettata? No, io direi a braccia aperte sia in Gabon che in Zambia, sempre molto bene. La grandissima difficoltà è stato l'ultimo paese. L'Esoto? Sì. Diciamo il più bello nel senso del clima. È magnifico clima e poi un bellissimo paese, bellissimo. Il problema è che dopo queste esperienze nei paesi africani, arrivando in l'Esoto, io ho avuto un problema terribile perché ho capito che ero bianca. Ma cadevo dalle nuove lì. Cioè prima non si percepiva la differenza. No, grandissimi amici, anche con i colleghi a scuola. Ma per carità, lì naturalmente, povero l'Esoto, un paesino piccolo piccolo, inglobato in tutto il Sud Africa con l'Apartheid. E c'era ancora l'Apartheid quando sono arrivata io. E io lo capivo questo in un certo senso, però lo soffrivo moltissimo, moltissimo. Perché negli altri paesi c'era una collaborazione fantastica, anche con i dirigenti della Chiesa, con tutti. Ma per bacco. E allora lì, devo dire, cadevo un po' dalle nuove. È stato dura. Ecco, è stato difficile. Sì, come immagino sia stato difficile. Anche adesso ovviamente sappiamo, immaginiamo, quelle che possono essere delle difficoltà oggettive, eventi climatici importanti, malattie magari da superare, difficoltà mediche che a volte potevi vedere e non potevi farci niente. Quindi insomma aspetti che a volte travalicavano, immagino le tue competenze che ti mettevano un po' a dura prova. È come. È come quello sì. Sì. Devo dire che dal punto di vista materiale il paese più semplice è stato il Lesuto. Perché lì bastava fare due ore di viaggio dalla frontiera e eravamo a Blumfontein, eravamo in Sudafrica, con tutto quello che Sudafrica, la Repubblica offre. Tutto. Molto più che a Torrepellice, diciamo. Ok. Sì. E allora da quel punto di vista sì. Il problema è che i Bassuto, la più parte della popolazione in Lesuto erano emigranti, andavano a lavorare nelle miniere in Sudafrica. In quei momenti era terribile la vita degli africani con l'Apartheid. era terribile. Per cui io capisco che questi Bassuto, vedendo noi bianchi, beh, non è stato. Comunque, io sono stata in quel paese fino al 94 e per cui io, tra l'altro, ero lì quando Nelson Mandela è stato liberato. Ah, è stato. Una festa. Ah, magnifico. Ah, ma che meraviglia. Ma ancora adesso, guarda, dico, ma perché in Israele abbiamo un Netanyahu e non un Nelson Mandela? Che ha detto, quando è diventato il Presidente della Repubblica Sudafricana. Dopo 27 anni di carcere. Di carcere a Robyn Island, ha detto, bianchi, non andatevi, ne abbiamo bisogno di voi. Eh sì, vabbè, ce n'è anche pochi, purtroppo. Ma davvero, che bella persona. Però insomma, hai vissuto dei pezzi di storia importanti. Sono d'accordo. Il giorno della liberazione di Mandela presente in queste zone è una cosa incredibile. Così come hai vissuto relazioni importanti, esperienze internazionali. Ti relazionavi con paesi, immagino, di tutto il mondo. Assolutamente. Italia, Francia sicuro, ma probabilmente Germania anche. Sì, sì, certo. Anche perché comunque dappertutto dove io ho lavorato nel campo educativo, in questi grandi collegi di 400 studenti, ragazzi e ragazze. C'erano moltissimi professori di tutte le nazionalità, per l'appunto, tedeschi, americani, c'era di tutto. E ancora adesso io ho moltissimi amici sparpagliati. Per il mondo. Sì. Bene. Sì, sì. Allora, il contributo di questo libro immagino andrà alla Seva. Tutto quanto, certo. Quindi tu sostieni anche la Seva, che è parte, diciamo, della tua vita. Faccio ancora parte di questo esiguo gruppetto, sempre più vecchio. Gruppo Seva. Gruppo Seva di Torepellice. Però si inserisce, diciamo, nella grande casa Seva, nella grande comunità Seva di tutto il mondo. Certo. E vorrei dire una cosa. L'anno prossimo, io non vedo l'ora. Spero di esserci ancora. C'è l'Assemblea Seva, qui a Torepellice, non vedo l'ora. Eh sì, perché la precedente è stata nel 2011. E già da poco. E ricordo bene, se non vorrei sbagliare la data. Però torna a Torepellice l'Assemblea Generale e quindi, insomma, la seguiremo con attenzione e ci diamo già appuntamento a ottobre, insomma, del prossimo anno per questa Assemblea. Magnifico. Magnifico. E ho avuto già, perché io continuo a corrispondere con alcuni ex studenti di questi paesi. E ti hanno già detto che verranno a trovarti. Sì, c'è un... Chi, il... Dalle sotto, verrà qui a questa Assemblea, in Tate Comezzi, che era un mio ex studente della Scuola di Teologia a Morigia. Dunque, era uno ottimo studente. Non vedo l'ora. Bene. E noi ti auguriamo di poterla seguire dall'inizio alla fine. Grazie, Laura, per essere stata con noi. Laura Nisbet, Le mie Afriche. Questo è il titolo del libro che abbiamo presentato. Libro che, tra l'altro, trovate al banchetto della Seva, qua. Ormai sono gli ultimi giorni. Domani il sinodo si chiude, ma se qualcuno passasse da queste parti può trovare questo libro, lo può acquistare, oppure lo troverà poi in Claudiana, a Torre Pellice. E quindi lo potrete acquistare per sostenere, oltre che leggere, l'esperienza direi veramente enorme di Laura e questo suo impegno bellissimo che ha avuto nella sua vita in Gabon, in Zambia, in Lesoto, ma anche per sostenere appunto le attività della Seva, della Comunità di Chiesa e Missione. Grazie ancora Laura e buona continuazione. Grazie a te.